Previsioni per oggi giovedì 27 gennaio. Su tutta la Sicilia maltempo, nella zona di Palermo temporali e schiarite nella tarda serata con piogge deboli. I venti saranno prevalentemente forti e soffieranno da sud-est con intensità di 34 km orari. Temperature comprese tra 8 e 11 gradi. Per la giornata di venerdì si prevedono piogge deboli ma continua. Vento da ponente con intensità di 10 km orari. Temperature in leggerissimo rialzo nei valori minimi.